La giornata del ricordo che va assolutamente celebrata non solo perché è prevista da una norma di legge, ma perché una democrazia sana e matura come la nostra, come quella che nasce dai valori della Costituzione, dell'antifascismo e quindi della libertà e della democrazia deve avere la forza assolutamente di leggere la storia senza alcun timore, senza voler far calare il velo del silenzio su fatti che appartengono alla storia e la storia in tutti i sensi non si può riscrivere. Oggi è un ricordo di una tragedia nazionale ed internazionale che appartiene alla nostra storia ed è anche un momento assolutamente per ricordare tutti coloro che furono vittime trasversalmente, perché la tragedia delle foibe è una tragedia che trasversalmente ha colpito la persona, le persone, ha colpito come tante altre tragedie dell'umanità, la dignità umana e quindi va ricordata assolutamente con grande chiarezza, trasparenza e rispetto.